Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video outfit, oggi vi mostrerò un outfit total black, proprio come il mio umore, felice come Heidi e Franco Porte, comunque, allora indosso questo top grigio con questi brillantini e dietro invece è nero. Di sotto indosso questi panda collant e come scarpe indosso questi scarponcini con i brillantini e una cerniera finta. Come accessori indosso le famosissime orecchine con la rosa, come mi sento fashion quando faccio lo zoom. Il mio solito bracciale con questi pallini, questo anello, questa collana di perline, lo so, lo so, ho un modo di spiegare sublime, veramente. Indosserò questa giacca, una normalissima giacca nera, ammetto che mi sto un po' stretta da quando sono ingrassata comunque. L'unica cosa particolare sono i polsini che sono questi pallini colorati. Come borsa invece utilizzerò la famosissima. Indosserò come borsa la mia solita borsetta con le corde che vi inquadro subito. Questa qua. Questo era il mio ennesimo video outfit. Spero che comunque se c'è qualcuno che mi segue gradisca il mio modo di vestire. Ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao!